Salve a tutti raga, per il prossimo episodio di Creepypasta Stories lascio decidere a voi su quale argomento. Un bootleg di Biohazan, che ho sentito che è molto spaventoso come potete vedere dall'immagine. Oppure uno un po' più leggero però sempre con un bel po' di sangue. Italia's Is Power, episodio 23.5, un bootleg, se il prossimo episodio di Creepypasta Stories sarà interamente dedicato al bootleg. Più una sorpresa, un secondo Creepypasta incluso, un mini Creepypasta. Sarà la prima volta che stavolta testo due storie insieme. Lasciate nei commenti quale volete. Biohazan, Resident Evil, o Etaria's Is Power. Tanto, decidete voi il prossimo episodio di Creepypasta Stories. Mentre io, poi alla fine, vi dedicherò... Cioè, per tutti i voti, dedicherò 5 secondi. Un'intera lista di chi ha votato la scelta che ha vinto. Cioè, entrate tra i vincitori, verrete citati. Grazie. E godetevi il resto dei video. Cioè, tutti gli altri video che ho pubblicato, godeteveli finché potete. Grazie. Grazie.